Si è dimesso a sorpresa il ministro dell'economia canadese Jim Flaherty. Dopo sette anni alla guida del Tesoro, il ministro conservatore, 64 anni, ha parlato di ragioni personali. Affetto da mesi da una malattia della pelle sottoposto a cure a base di steroidi, Flaherty ha tuttavia negato che la scelta sia legata al suo stato di salute.